Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In primo piano l'emergenza sanitaria, non mancano le reazioni e i commenti dopo la decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca di chiudere le scuole fino al prossimo 30 ottobre. Mamme indignate a Torre del Greco ai nostri microfoni chiedono l'imminente riapertura. Sul fronte della sanità nell'area vesuviana l'ospedale Maresca va verso una riorganizzazione in Covid Hospital, mentre l'ospedale di Bosco Trecase è quasi saturo. I dati non sono incoraggianti ma l'azienda già pensa ad un'implementazione dei posti letto. Spazio anche alla cronaca, quattro aziende dell'Interland sono state sequestrate per scarico di rifiuti reflui nel fiume Sarno. Negozi che diventano al centro di Torre del Greco una vera e propria galleria d'arte. È l'iniziativa promossa da Ascom fino al prossimo 24 ottobre. Con la presentazione del libro di Giuseppe Falanga ieri nella Basilica di Santa Croce si è chiusa la tre giorni di eventi e celebrazioni dedicata a San Vincenzo Romano. In chiusura lo sport con la Turris che si prepara ad affrontare domenica a Liguri il Monopoli. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Scuole chiuse in campagna fino al 30 ottobre. È l'ordinanza che ha firmato nella giornata di ieri il presidente della regione Vincenzo De Luca. Una decisione che il governatore campano non ha preso a cuor leggero visto l'incremento dei casi di contagio nelle scuole. Dure le parole del Premier Conte che ha spiegato. Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione, ha detto dal Consiglio europeo di Bruxelles. La mattina non sono gli studenti a salire sui mezzi. Lasciare i ragazzi a casa è inaccettabile se vogliamo considerare i numeri dei contagi nelle scuole, prosegue il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Non è mancato l'intervento del sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha visto la decisione del governatore come alzare una bandiera bianca. Una sconfitta per un sistema incapace di rafforzare della rete sanitaria pubblica territoriale. Senza consultare nessuno ha messo in ginocchio una società scolastica, anzi una città, ha concluso De Magistris. Alle dure accuse il presidente De Luca ha ricordato i dati comunicati dalla Task Force regionale. Oggi i tamponi positivi in campagna sono stati 1.127 su 13.780 tamponi, cioè l'8,1%. Preoccupano soprattutto i numeri relativi all'ASL Napoli 3 Sud che conta 200 alunni contagiati e 50 docenti con circa 70 casi connessi. Coinvolti anche tre istituti di Torre del Greco, la De Nicola Sasso, Scauda Falcone e Don Bosco d'Assisi che qualche giorno fa avevano già sospeso le attività didattiche a causa della positività di alcuni docenti ed alunni. Intanto il Comitato Tecnico Scientifico fa pressing al Governo affinché si giunga a provvedimenti più restrittivi in tempi rapidi che superino l'attuale DPCM, anche in vista del weekend. Tra le ipotesi quella di un coprifuoco. Mamme indignate per la chiusura delle scuole in Campania. Il presidente Vincenzo De Luca lo aveva annunciato lo scorso venerdì. Se dovessimo avere mille contagi e duecento guariti al giorno sarà lockdown. Nella giornata di ieri la soia campana è stata superata con ben 1127 positivi. Non un lockdown totale ma una stretta ancora più severa sulle misure di contenimento del virus. Tra quelle contenute nella nuova ordinanza del Governatore, una in particolare riguarda la sospensione delle attività scolastiche dal 16 al 30 ottobre. Si torna alla didattica a distanza. I cittadini di Tore del Greco divisi sull'argomento. De Luca lo aveva annunciato a quota mille contagi avrebbe preso ulteriori provvedimenti in Campania a chiude le scuole fino al 30 ottobre. Che cosa ne pensi? Penso che ha preso un provvedimento molto ma molto sbagliato. Deve iniziare a chiudere il bingo che è altro che assembramento. Non si capisce niente. C'è tante e tante situazioni. Poi vuole chiudere i ristoranti, i locali. C'è proprio cose contro senso. La scuola è il luogo più sicuro per i bambini. Noi andiamo a fare la spesa a mamma che purtroppo li dobbiamo portare con noi. I bambini vengono con noi nei negozi, in piazzetta. Altro che virus. Quindi ha fatto proprio le cose che è proprio controcorrente proprio. Secondo te i contagi avvengono più fuori dalla scuola o dentro la scuola? Fuori dalla scuola ma molto di più. Guarda stanno per strada con noi. Io mi sto parlando cioè loro hanno contatto con tutti. Da mamma fai un appello al presidente De Luca? Devi aprire assolutamente la scuola subito e poi chiudere le cose che fanno molto più assembramento. De Luca lo aveva annunciato. A quota mille contagi in campagna avrebbe preso ulteriori provvedimenti e chiude le scuole fino al 30 ottobre. Che cosa ne pensa? Assolutamente sì. È d'accordo? Sì, perché non posso mandare un bambino. Io non ho bambini piccoli, però non posso mandare bambini un giorno sì e dieci giorni no. Il fatto che noi non sappiamo come viene trasmesso questo virus dai bambini. Quindi lei è pro didattica a distanza? In questo momento sì, proprio per evitare il panico. Io penso che ha fatto bene perché comunque non ci stiamo attenti e quindi queste sono le problematiche. Quindi ci dobbiamo assumere noi le responsabilità. Ma siamo noi che non ci stiamo attenti. Siamo noi persone, cioè non lo so, siamo noi. Quindi lei crede che De Luca abbia fatto la scelta giusta? Io penso di sì. È come pure Conte. Penso che sta lavorando bene. Ci siamo lasciati troppo andare quest'estate. Comunque dovevamo assumerci noi le responsabilità. Comunque siamo andati fuori in azione. Non abbiamo rispettato le regole e queste sono le conseguenze. Secondo lei che cosa porterà con sé la chiusura di intermittenza delle scuole? Stanno persone che lavorano e quindi non possono gestire la cosa. E quindi con queste piattaforme delle scuole è comunque un po' problematico. Perché i bambini piccoli comunque devono stare, devono essere seguiti. I genitori non ci stanno. Che si deve fare? De Luca lo aveva annunciato. A quota mille, contagi in Campania, avrebbe preso ulteriori provvedimenti. Scuole chiuse fino al 30 ottobre. Che cosa ne pensa? Io chiuderei fino all'anno prossimo. Tutto. Lei pensa che il contagio avvenga anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole? Anche nelle scuole. Può avvenire dappertutto. Anche nei negozi, anche per strada. Dipende se uno non è controllato oppure non usa gli accorgimenti possibili. È inutile. Pensa che la chiusura delle scuole possa provocare dei danni irreparabili per i bambini e per i ragazzi? Sicuramente. Perché poi lo studio non è più come dovrebbe essere. È una misura che ci voleva. Perché il 90% delle iniziative di questa diffusione di virus veniva molto dalle scuole. E allora la prima misura che ha fatto è stata questa qui che tutti quanti si aspettavano. Quindi buono De Luca e se non diminuiscono ancora in questi giorni che saranno quelli decisivi, si troverà a prendere ulteriori iniziative ancora un poco più restrittive. Che se non la freniamo adesso e man mano che comincerà a avvenire i momenti in cui ci sta anche l'influenza che si può confondere col virus diventa ancora più difficile. Il nostro Presidente della Regione ha fatto una cosa giustissima, contrariamente a quello che dice la Zolina. Togliere l'istruzione ai bambini è una cosa gravissima, soprattutto adesso che i bambini stavano riacquistando fiducia verso il mondo. Perché comunque hanno vissuto un periodo molto ma molto stressante. È assurda questa situazione. Mi sono confrontata anche con maestre che sono molto indignate perché anche per loro è difficile gestire una didattica a distanza. È inaccettabile questa cosa. I bambini noi cerchiamo di tenerli lontani dal computer, da tutti questi mezzi e invece che cosa succede? Adesso li dobbiamo riattaccare al computer, gli dobbiamo dare questa cosa. Perché? Voglio chiedere alle mamme, alle mamme proprio, dire adesso i bambini li dovete tenere in casa, non è che li mettete al pascolo per strada perché è assurda questa situazione, è proprio assurda. Presidente De Luca, noi siamo un gruppo di mamme che non lavoriamo, facciamo le casalinghe, quindi diciamo è il nostro dovere e il nostro diritto a cudire i nostri figli, ma non in questo modo perché loro si devono affacciare al mondo e in questo modo loro non lo faranno mai perché hanno già subito un trauma e in quel momento era giusto perché comunque eravamo in piena pandemia ma adesso no, adesso è inaccettabile questa azione, dobbiamo riaprire le scuole e cercare di gestire la situazione in maniera completamente diversa. Ospedale Maresca si va verso la riorganizzazione in Covid Hospital. L'aumento dei nuovi casi in Regione Campania della curva epidemica ha spinto i vertici dell'Asra Napoli 3 Sud a richiedere una rimodulazione immediata dei posti letto nei presidi ospedalieri e aziendali, dove a partire da oggi sono stati sospesi tutti i ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, garantiti solo quelli di urgenza non differibili e i ricoveri dei pazienti oncologici. In particolare solo per l'ospedale di Torre del Greco, i pazienti ricoverati in ortopedia, medicina e chirurgia dovranno essere dimessi. Di qui l'intenzione dell'azienda di destinare la struttura sanitaria di via Montodoro solo ai pazienti Covid. Una scelta scaturita anche dal fatto che il Covid Hospital di Bosco Tre Case, struttura di riferimento dell'azienda, è quasi saturo. I dati dei giorni scorsi infatti non erano incoraggianti sia per i posti ordinari che per quelli in terapia intensiva e subintensiva. Siamo di fronte, aveva dichiarato il direttore generale della Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, ad un quadro come è facile capire in costante evoluzione. Quello che al momento preoccupa di più sono in particolare i ricoveri ordinari, tanto che il lavoro che si sta cercando di fare a monte è capire la reale necessità di ospedalizzazione di ogni singolo contagiato. Di qui la necessità di un'implementazione. Fervono infatti i lavori per un ulteriore ampliamento dei posti letto. Contiamo, conclude Sosto, entro la prima decada di novembre, di arrivare ad una capacità di circa 80-90 posti ordinari, ampliando leggermente anche la disponibilità in subintensiva, dove puntiamo ad arrivare a quota 25. Scarica abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Sono i reati contestati a vario titolo a quattro aziende operanti nel settore della metallurgica pesante e dell'attività conserviera tra Striano, Pagani e Scafati dai carabinieri del Comando Gruppo per la tutela ambientale di Napoli. Il sequestro preventivo delle aziende, secondo quanto ritenuto dai due giudici delle indagini preliminari di Noceano Inferiore e Torra Annunziata, si sarebbe in particolare reso necessario per impedire la protrazione dei reati accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi e per evitare l'ulteriore compromissione dell'ambiente circostante, come scritto in una nota firmata congiuntamente dai procuratori di Noceano Inferiore, Antonio Centore e Torra Annunziata, Nunzo Fragliasso. Il centro storico di Torre del Greco abbraccia l'arte. Da giovedì 15 a sabato 24 ottobre, le vetrine dei negozi di Via Roma e di Via Salvatornoto si arricchiscono di dipinti. Il progetto ha come titolo Arte in vetrina e nasce dall'unione dell'ASCOM di Torre del Greco e dei due artisti torresi Ciro Adrian Ciavolino e Simone Oliviero. Un importante evento che punta al rilancio economico della città di Torre del Greco. Come è nato questo progetto? In effetti questo progetto è nato da una serie di iniziative che l'ASCOM ha messo in campo per cercare di smuovere un po' con l'economia. Di comune è accordo col concerto e col patrocino dell'amministrazione comunale. Abbiamo pensato di organizzare per le strade di Torre del Greco, abbiamo cominciato adesso con Via Roma, ma pensiamo di allergare questa manifestazione anche in altre strade e allestendo le vetrine di cultura, d'arte e assieme all'arte il cittadino passeggia ed è un motivo per lo shopping serale o mattutino. Un'altra iniziativa che l'ASCOM mette in campo per dare un contributo e per risolvere l'economia di Torre del Greco. Manteniamo informati tutti i nostri associati su tutti i vari decreti ministeriali e regionali, facciamo da tramite con la regione, interveniamo con la regione quando si tratta di cercare di lenire un poco i rigori dei provvedimenti che pigliano i nostri governanti, ma più di questo per adesso non riusciamo a fare. È stata un'idea nata soprattutto per rilanciare un po' il commercio, perché noi comunque siamo convinti che nel rispetto delle regole si possa andare avanti anche economicamente, evitando crack fidanziari o situazioni del genere. Ci piaceva l'idea, abbiamo portato questa idea a Torre del Greco. Se dovesse funzionare speriamo poi di ripeterla anche in grande. Cosa rappresentano le opere? Sia io che il maestro Ciavolino abbiamo fatto sia delle figure che dei panorami. I panorami in linea di massima sono i panorami nostrani, quindi insomma dal Vesuvio ai camaldoli di Torre del Greco. E per quanto riguarda le figure abbiamo insomma delle figure ad esempio come le quattro stagioni fatte dal maestro Ciavolino, oppure insomma nel segno del serpente alcune figure femminili che ho fatto io. E diciamo io e lui abbiamo degli stili un po' diversi perché lui ha uno stile un po' più classico, mentre io ha uno stile un po' più contemporaneo. E quindi diciamo c'è stata anche questa commistione generazionale che ci piaceva anche portare in vetrina. Speriamo che dia risultati importanti perché poi avere maestro come professore Ciavolino è un piacere e un onore per Torre del Greco. Ha fatto la storia di Torre del Greco, non solo lui ma tutta la sua famiglia. Quindi per noi è un onore ospitare queste cose. Com'è nato questo progetto, questa unione con l'ASCOM? E' nato da un'idea del professore perché lui nonostante l'età è ancora molto attivo e quindi a noi ha fatto piacere ospitare i suoi quadri. E quindi penso che è una collaborazione con l'ASCOM e Ciavolino che può dare dei frutti importanti per Torre del Greco. Iniziativa promossa anche dall'amministrazione comunale. Nonostante le difficoltà, quest'evento può risollevare l'economia del territorio, ha affermato l'assessore alla cultura e gli eventi Enrico Pensati. Corre l'obbligo di precisare e di ringraziare l'ASCOM che ha fortemente voluto questa iniziativa. E' davvero bello mettere insieme quello che è il teatro naturale, il commercio naturale di questa città in un luogo particolarmente significativo per lo shopping con la vocazione artistica che questa città ha sempre mostrato di avere. In vetrina abbiamo un artista emergente come la signora Oliviero e un maestro storico della pittura come Ciro Adrian Ciavolino. Quindi un'idea sinceramente fantastica che ci riempie di orgoglio e quindi il merito va sicuramente ed esclusivamente all'ASCOM di Torre del Greco. La Chiesa deve custodire il tesoro più prezioso dei cristiani, l'Eucaristia. Con la presentazione del libro del professore Giuseppe Falanga, Fai vivere i santifichi l'universo, ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce, si è chiusa la tre giorni di eventi e celebrazioni in occasione del secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. Le finalità del suo ultimo libro sono quelle di far conoscere l'Eucaristia attraverso due dimensioni importanti, cioè la presenza di Gesù con il suo corpo e il suo sangue in mezzo a noi e poi il fatto che la creazione è anch'essa un dono e una presenza di Dio. E quindi la Chiesa deve custodire il tesoro più prezioso dei cristiani, come diceva San Vincenzo. L'Eucaristia è il tesoro infinito dei cristiani, ma la Chiesa e la società devono custodire parimenti la creazione. Quanto è importante la figura di Gesù per i giovani? Gesù era giovane, era un giovane. Noi pensiamo a Gesù per quello che è oggi, alla iconografia, ai quadri, a quello che la tradizione dell'arte ci ha tramandato certamente in questi secoli, ma innanzitutto dobbiamo ricordare che Gesù era giovane, ha iniziato la sua attività di predicazione all'incirca prima dei trent'anni ed è morto intorno ai trent'anni. Nessuno meglio di Gesù può parlare ai suoi coetanei. E poi un altro aspetto di Gesù è importante, la sua contemporaneità. Lui non è lontano né nel tempo né nello spazio, perché attraverso la sua parola è possibile far conoscere Gesù ai giovani e grazie a Dio ci stanno sempre più sacerdoti. Penso per esempio al nostro ospite di stasera, Padre Enzo Fortunato, che ha fatto di questo la sua missione principale. Quindi Gesù è giovane e parla un linguaggio fresco, semplice. Quello del Vangelo non è un linguaggio artefatto. Cosa ha lasciato ai turresi San Vincenzo Romano? Essere cristiani a Torre del Greco o semplicemente essere cittadini a Torre del Greco non credenti è molto più semplice che altrove. Basta seguire l'insegnamento di San Vincenzo. Per i cristiani diciamo che lui ci ha dato due binari, la parola di Dio e l'eucaristia, ma per quelli che non credono San Vincenzo Romano resta il ricostruttore morale, sociale, oserei dire tra virgolette politico di questa città. Noi siamo figli di Vincenzo Romano, non dobbiamo fare altro che seguire le sue orme, perché questo significa essere santi, indicare un cammino che porta, come dicevamo prima, a Gesù. Puntiamo all'essenzialità e a fare l'ordinario in modo straordinario. Alla presentazione è intervenuto Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Padre Enzo Fortunato, quanto è importante l'esempio di San Vincenzo Romano? Nei diversi ambiti della vita, ognuno di noi è chiamato a fare bene il bene e poi se questo bene viene fatto con passione, viene fatto soprattutto con paternità, io credo che rappresenta una rivoluzione. Quanto è importante l'esempio della povertà? La povertà oggi siamo un po' tutti poveri e io non me la sento di dire alle persone siate poveri. Dico siamo essenziali. C'è un bellissimo fioretto nella vita di San Francesco che fa comprendere la bellezza della povertà e dell'essenzialità. E cioè che i frati si trovavano in un fiume e lo riescono ad ottrepassare perché c'è una piena solo quelli che non erano appesantiti dai pesi, dai pesi delle ricchezze, dai pesi delle cose della vita e allora credo che ci possiamo arricchire di messaggi forti, quelli non appesantiscono. Un messaggio ai giovani in questo momento di distanziamento? Io so che voi siete più capaci di noi adulti. Io so che voi siete luci da accendere. Io so benissimo che a volte noi cerchiamo di indottrinarvi, di riempirvi come delle bottiglie che vanno, che vanno messo il più possibile cose dentro, invece no, è tutto il contrario. Sono loro che sanno darci qualcosa di lucente, di bello e quindi sono convinti che ci aiuteranno a stare attenti. Come possiamo fare bene il bene? Lo possiamo fare facendo l'ordinario in modo straordinario. Turris impegnata nel match casalingo contro il Monopoli. Domenica alle 17.30 all'inizio di un Tour de Force con cinque partite in due settimane. I Corallini, oltre ai Pugliesi, affronteranno Palermo, Paganese, Avellino e Casertana. Nel frattempo la sfida con i Biancoverdi, con mister Fabiano che potrebbe fare affidamento all'11 titolare simile a quello proposto nelle precedenti sfide. Riconfermati, il numero uno a Bagnale in porta e gli attuali capocannonieri della squadra Daniele Franco e Luca Giannone. Solito ballottaggio in difesa tra Lorenzini e Dinunzio, con il primo favorito. Occhio al reparto avanzato, dove Persano potrebbe rimanere fuori per infortunio, al pari di Alma. Al suo posto, Scalpi da Luca Pandolfi. Resta concreta la possibilità di rivedere in campo il capitano Longo. Il bomber ha avuto l'autorizzazione per tornare ad allenarsi in gruppo e potrebbe trovare spazio a partita in corso. La società, intanto, si appresta ad accogliere i propri tifosi allo stadio. Salve eventuali disposizioni di carattere regionale, potranno sedere sugli spalti i sole abbonati dei settori Tribune e Curva, che potranno quindi accedere allo stadio nel totale rispetto delle regole anti-Covid. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci all'email a redazione chiocciolatvcity.it oppure chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana e appuntamento a lunedì con una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.